Musica Salve a tutti, siamo gli alunni del corso Operatore della Ristorazione ed abbiamo deciso tutti insieme di partecipare a questo concorso in quanto abbiamo voluto accettare questa importante sfida Il progetto che abbiamo deciso di realizzare è stato quello della merenda sana Abbiamo utilizzato la tecnologia a nostra disposizione per effettuare una ricerca su internet al fine di decidere quale potesse essere la migliore merenda sana Il risultato di questa ricerca è stato un documento creato con il programma PowerPoint Ogni gruppo di ricerca ha poi presentato la propria proposta agli altri gruppi servendosi degli strumenti tecnologici quali il computer, il videoproiettore e le diapositive della presentazione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti